Gli albergatori denunciano flop di turisti, l'assessore risponde, i visitatori ci sono, ma dobbiamo metterci in rete. Ferie di ferragosto, bilancio di mezz'estate, trattasse, profughi, valanghe e tornado, l'editoriale di Luigi Bacialli. Bilancio di un'estate di siccità, le limitazioni hanno colpito, le irrigazioni, ma l'acqua potabile non è mai stata un pericolo. Bassano celebra i 409 anni dalla nascita della beata Giovanna Maria Bonomo, copatrona della città. A Piazzola sul Brenta centinaia di cani abbandonati trovano casa, grazie ad una convenzione tra i comuni dell'Alta e un parco zoofilo. Beppe Saroni, uno dei miti del ciclismo italiano, racconta le sue imprese nel Bassanese, una terra legata a tanti ricordi. Buonasera a tutti voi telespettatori, in apertura di telegiornale ci occupiamo di turismo. Oggi giorno di ferragosto e molti avranno trascorso la giornata in una città d'arte. Anche a Bassano di turisti se ne sono visti, per gli abbigatori forse troppo pochi, allora una polemica interviene, l'assessore al turismo Giovanna Ciccotti. A scatenare la polemica, una settimana fa era stato il presidente degli albergatori bassanesi. Il Veneto, diceva Roberto Astuni, continua ad attirare migliaia di turisti e il comparto delle vacanze resta una fonte eccezionale di entrate, ovunque, tranne che a Bassano. Una polemica alla quale non si sottrae certo l'assessore al turismo Giovanna Ciccotti. Non è vero che non ci sono turisti a Bassano, basta guardarsi attorno, basta ascoltare le lingue che parlano, le persone che incontriamo per strada, e sentiamo che ci sono turisti a Bassano che vengono, non solo per la nostra bella città d'arte, vengono ad ascoltare e a seguire il nostro festival. Naturalmente vorremmo avere sempre di più. Per questo l'amministrazione comunale intende avviare progetti che attirino in città non solo gli appassionati d'arte. Credo che dobbiamo veramente promuovere questa città, non solo come città d'arte, come città di spettacolo, ma anche come città dello sport, dello sport e del turismo dolce, che è fatto di trekking, di bicicletta, di canoa, di kayak e di tante altre cose che possiamo fare nel nostro territorio. E in questo l'amministrazione chiede aiuto anche agli stessi albergatori. La collaborazione degli albergatori, di tutti gli stakeholders e secondo me bisogna andare verso un'unione, una collaborazione con tutti i comuni di un territorio omogeneo come può essere il canale di Brenta, il territorio che gravita attorno al Brenta. Abbiamo con noi questa sera il dottor Romer Giardin, medico del 118. Buonasera. Buonasera a lei dottore. Allora abbiamo visto già nel primo servizio che parliamo di turismo, lei è di Marossica, ma c'è turismo nel vostro comune? Sì, 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 c'è turismo, ma potrebbe essere molto di più. Abbiamo una bellissima città, abbiamo le persone molto gentili, disponibili, generose, abbiamo tante cose da vedere e soprattutto, mamma mia, basta guardare in su, c'è il castello superiore, guardare in giù, c'è il castello inferiore, c'è la piazza, c'è la scacchia, c'è cultura, siamo gemellati con quattro paesi di tutto il mondo, Giappone, Brasile, potrebbe essere tanto di più, venite tutti. Lei da quanto vive, da quanto tempo vive qui? Adesso sono qua da cinque anni ormai, cinque anni, sì, ho ancora un problema con l'italiano, però piano piano sta diventando meglio. Perché lei di che origine, di dove? Di origine della Giordania, ma ho vissuto la mia vita in Germania, vicino a Colonia. E in Germania per quanti anni allora? Oddio, dieci anni in Germania, ho studiato e laureato a Vienna, dieci anni là, adesso ho cinque anni qua, vediamo. È una bellissima città di Vienna come quella di Marossica. Sì, si può dire, sì. Lei è il medico del 118, ma è anche formatore, giusto? Sì, sì. Allora, che cosa significa essere formatore di emergenza? Mamma mia, formatore di emergenza vuol dire semplicemente insegnare, condividere esperienze, condividere sapienza e soprattutto mettere, unire, unire le esperienze di vari gruppi, no? C'è il soccorritore, il volontario, il medico, l'infirmiere, ci sono il soccorso alpino, ci sono le forze dell'ordine. Unire la sapienza, l'esperienza di tutti quelli in un modo valido, accademicamente universale, questo è quello che faccio. È una cosa bellissima. Immagino. Restiamo dunque oggi come giorno di fine agosto, quindi facciamo un bilancio di metà anno con il nostro direttore Luigi Bacialli. Qualche considerazione di una sera di mezza estate e ovviamente il pensiero va subito alle popolazioni colpite sulla riviera del Brenta, in cadore dalle frane che sono cadute dall'antelau, a San Vito ci sono state anche delle vittime, la temperatura sta scendendo, ci sono dei temporali e in questi giorni è prevista un'ondata di maltempo, speriamo che non ci siano problemi, ma se non altro non ci sarà più il caldo torrido africano che abbiamo dovuto sopportare nelle ultime settimane. Dicevo non si può non pensare a chi ha subito danni incalcolabili, a Mira, a Dolo, soprattutto a Cazzago di Pianiga per il tornado e poi a San Vito, ad Auronzo, insomma nelle zone del Cadore dove sono cadute le varie frane, in particolare dall'antelau dove ci sono state delle vittime. Speriamo che il governo dopo le parole passi ai fatti, come al solito, annunciati 150 milioni che saranno però distribuiti anche in province colpite in tempi non recenti dall'alluvione, in questo caso Padova-Vicenza, sono soldi che poi alla fine si riducono a briciole, ma è bene che qualcosa arrivi subito perché non è che si può aspettare che il governo alla fine, dopo anni si decida a fare qualche concessione a una regione che versa una valanga di miliardi nelle casse dello Stato e che riceve solo gli spiccioli, perché così trattano questa regione. Quindi fa benissimo al governatore Zaia ad indignarsi, aspettiamo anche misure molto più dure, molto più drastiche da parte delle istituzioni locali. I sindaci sono in rivolta, sono in rivolta per le condizioni in cui sono stati ridotti e anche per la questione dei profughi, di questo si è parlato moltissimo in questi ultimi mesi, non se ne può non parlare perché il dato più recente della nostra economia è che c'è un aumento dello 0,2% del PIL nel primo trimestre, questo vuol dire che siamo comunque sempre fermi, che non stiamo migliorando, che bisognerebbe aiutare questo bagliore di ripresa con interventi come la riduzione delle tasse, l'allentamento della burocrazia, una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro, ma siamo fermi, quindi è inutile portare altra gente, scaricarla sui primi cittadini che sono disperati, non sanno dove mettere questi migranti e ci sono stati casi di tensioni sociali come a Quinto di Treviso, ricorderete cosa è successo. Ogni tanto prevale il buonsenso, per esempio all'Electrolux i lavoratori, una parte di loro hanno detto all'azienda volete farci lavorare anche a Ferragosto, vabbè se l'obiettivo è salvare lo stabilimento di Susegana, non farlo chiudere, lavoriamo anche a Ferragosto, bisognerebbe essere un po' più disponibili in questo senso, se c'è lavoro lavoriamo, perché altrimenti se si perdono dei treni poi non si può sperare di cavarsela e di salvarsi in una situazione così difficile. Per il resto le notizie ne abbiamo date tante, la sicurezza che riguarda la mancanza di sicurezza a Padua, ma parliamo anche di Treviso, addirittura abbiamo visto un assessore all'istruzione e al lavoro della regione del Veneto rincorrere i ladri, siamo arrivati a questo, Elena Donazzan che ha recuperato le biciclette rubate non nel Veneto ma a Sanremo, dando anche l'esempio di coraggio e di interventismo perché non si può subire continuamente le prepotenze, le violenze e le violenze degli altri. Venezia è ridotta ad un lettamaio, speriamo che il sindaco Brugnaro riesca a porre un freno anche qui a questo tornado di turisti e di tavoletari e di venditori di borse contraffatte e di lestofanti vari che stanno veramente imbarbarendo ulteriormente in questa città, dove è comparso anche il cubo bianco, il cubo bianco un pugno nell'occhio ne compierà anche un altro, ma questo è un po' il segno anche della decadenza della nostra società. Al di là di tutto, al di là di questo, pensando sempre alle famiglie che sono in grandi difficoltà, alle imprese che soffrono e alla indifferenza di certa politica, buon ferragosto, davvero tanti auguri, buon ferragosto e ci vediamo ovviamente settimana prossima con Focus e con tutta la nostra programmazione. Allora dottore facciamo un punto anche con lei per quanto riguarda gli interventi, come è andata quest'estate, ci sono stati tanti interventi purtroppo? Sì, purtroppo sì, è un'estate molto molto intensa come tutti possono immaginare, soprattutto con questo caldo che ci ha trovato quest'estate, ma anche purtroppo gli incidenti stradali, come sempre, le droghe con i giovani sono proprio tre cose che ci hanno occupato abbastanza bene quest'estate. L'abbiamo sentito anche nei telegiornali, sia nostri locali ma anche nazionali, molti giovani morti proprio per incidenti stradali, giovanissimi dai 23 ai 30 anni o per uso di droghe. Sì, 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 questo purtroppo è ancora un grandissimo problema, la sottovalutazione della strada, la sottovalutazione della macchina e la sopravalutazione di quello che uno, che uno tutti ha, posso mandare messaggi mentre guido, posso fare tante cose, ha quella birretta in più, ma dai, cosa succede? Ma non è così, non è così. Ripeto, dico sempre quando vado alle scuole per prevenzione di incidenti stradali, no? Per il mondo sei qualcuno, ma per qualcuno sei il mondo. La ripeto sempre e ricordiamoci, non ci sono mai scuse quando succede qualcosa, non ci sono mai scuse. La strada è il rispetto e quello lo dobbiamo a ognuno intorno a noi. Lei è anche soccorrittore in montagna, quindi ci sono esclusionisti che magari o per incoscienza o per sottovalutazione anche dei pericoli della montagna si creano grossi danni. Sì, sì. Allora io veramente la devo dire, anche se ho una certa esperienza, ho colleghi soprattutto a Crespano, al 118 di Crespano, di Triviso, per dire la verità, là ci sono i miei colleghi, il dottor Tomasi, il dottore, che veramente hanno l'esperienza grandissima in questo campo. E là è come sempre, e quando a noi giovani, tra virgolette, ci insegnano anche loro i piccoli trucchi della montagna, la sottovalutazione è una cosa tremenda, ok? Uno veramente deve essere molto cosciente. Sto andando in montagna, non sto andando in pieno, sto andando in montagna, devo avere le scarpe giuste, non andare da solo. Le solite cose che tante volte gli sentiamo dal soccorso alpino, ci sentiamo dal CAI, non sottovalutare la montagna. Basta scivolare con la scarpa di ginnastica e uno si può veramente farsi male. E se sei da solo, chi vuoi che ti chiama aiuto? Ok? Sì. Mentre invece per il caldo, oltre agli incidenti stradali e di montagna, insomma penso che quest'anno con questo grande caldo ci siano stati anche tanti ricoveri. Il caldo sì. Allora, gli anziani, poverini che non hanno tanti, hanno già disturbi di cuore, di polmoni, di reni, forse non bevono quello che devono bere. I giovani che sottovalutano il caldo, ah sono ancora giovane, posso permettermi questo e quello. Il caldo veramente non è una cosa da sottovalutare. Dobbiamo ricordarci di bere quello che possiamo bere e la cosa più importante, non solo acqua. Bere tre litri di acqua non è tanto buono, ma succo, tè, zuppa, sono liquidi. Arrivare al tot di due litri, due litri e mezzo, cercare di veramente farlo, ok? Eh, che non è sempre facile. No, non è sempre facile, lo so, lo so. E a proposito di caldo, ci occupiamo anche di siccità che nelle ultime settimane è interessato il bassanese. Abbiamo parlato con il presidente di EITRA, Andrea Levorato. Siccità, addio, arriva la pioggia. Dopo settimane di aridità, le previsioni meteorologiche annunciano l'arrivo di una perturbazione che interesserà anche il bassanese. Potrebbe così rientrare l'emergenza idrica lanciata nei giorni scorsi dal Consorzio di Bonifica e dagli agricoltori. Un'emergenza che però fortunatamente non ha mai interessato l'acqua potabile, come conferma il presidente di EITRA, Andrea Levorato. Non possiamo parlare di emergenza nel senso che non abbiamo avuto situazioni di criticità nel nostro territorio. Certo abbiamo registrato un consumo enorme di acqua, però i nostri sistemi sono sistemi che hanno fronteggiato adeguatamente l'estate. Quello che si chiede ai cittadini dunque sono certe accortezze piuttosto? Si, si raccomanda ai cittadini di fare un uso oculato della risorsa idrica utilizzandola principalmente per scopi alimentari o per la propria pulizia personale, evitando comportamenti o abitudini che utilizzano l'acqua per magari irrigare o annaffiare il giardino. Lei è impegnato anche in esercitazioni di emergent come l'allarme bomba, ma come si svolgono queste esercitazioni? Queste esercitazioni, Tatiana, sono molto particolari perché sono non emergenze individuali come quelli che siamo abituati a vedere, sono maxi emergenze, si chiamano anche eventi maggiori. Per esempio una scoppia di una bomba potrebbe essere non solo il terrorismo, ma anche una bombola di gas sul mercato, immagino con questo caldo, là avendo tante 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 persone, avendo i primi soccorritori che arrivano, chissà saranno per dire due ambulanze con 5-6 soccorritori, non basta ancora per accogliere tutti questi feriti che ci sono, allora per abituare, e ripeto quello che ho detto all'inizio, abituare che il medico, i sanitari lavorano con la protezione civile, loro lavorano con le forze dell'ordine, loro lavorano con i cittadini, e proprio sono esercizi dove cerco di unire tutti insieme per imparare insieme, così non solo ognuno fa il suo bene, no, ma ognuno capisce le forze dell'altro, ma capisce anche le limitazioni dell'altro, e così un gruppo cerca di aiutare l'altro gruppo per essere una squadra completa, sono esercizi che facciamo circa una volta al mese, sia a Marostica, sia dove troviamo i studenti che vogliono studiare, ho anche il mio collega dottor Fabio Vivian che mi aiuta tanto con questa cosa, con le scenari per darmi anche non solo da medico vedere le cose, ma anche da non sanitario, e così proprio riusciamo di fare un'esercitazione completa. Oggi, sempre fin agosto, ricorrono i 409 anni della nascita della Beata Giovanna, figura significativa per la città di Bassano. Ricorrono oggi i 409 anni dalla nascita della Beata Giovanna Maria Bonomo, la copatrona di Bassano. Una figura esemplare per la fede assoluta in Dio che ha dimostrato in ogni istante della sua esistenza, costellata da momenti difficili di tentazione e sofferenza di dolore fisico, ma soprattutto morale, dolore che però non gli ha mai sottratto quella luce e quella sete di amore sommo che la accompagnerà sino alla fine dei suoi giorni. È strettissimo il legame tra la Beata Giovanna e Bassano del Grappa. Benedettina Cassinese entrò nel monastero di San Gerolamo in città ancora adolescente, non aveva ancora compiuto i 15 anni quando fu accolta come educanda. L'8 settembre 1621 la cerimonia di vestizione ed un anno dopo la professione solenne. Assieme ai voti di povertà, castità e obbedienza, professò la stabilità secondo la regola di San Benedetto, segnando con la sua presenza per oltre mezzo secolo i luoghi che la ospitarono. Così come Bassano anche Asiago, sua città natale, conserva la memoria e ne custodisce gelosamente una reliquia. Così come le spoglie di quella che divenne Badessa, cui si rivolgevano le persone tristi, povere e tribolate, per cui lei diceva si sarebbe disfatta, si possono ora ossequiare nella chiesetta a lei dedicata a Bassano del Grappa. Una donna, la beata Giovanna Maria Bonomo, che ha dedicato la sua esistenza al mistero della fede e al prossimo. Allora dottore, abbiamo prima parlato dell'abuso di stupefacenti tra i giovani, ma secondo lei qual è l'origine di questo problema? Mamma mia, allora c'è origini politiche, culturali, sanitari, aiuto. Allora mi permetto di dire che soprattutto queste droghe tra virgolette semplici, che adesso gli stiamo, Ecstasy, Peer, Beer, tutti questi, non voglio parlare forse della cocaina, della eroina, perché so che ci sono tante associazioni, soprattutto qua nella nostra zona, che si impegnano tantissimo per aiutare soprattutto i giovani con queste cose, ma tanti, tanti giovani vanno in discoteca alla sera e c'è l'amico o l'amica o qualcuno che dice, ah ma guarda questo è solo Ecstasy, cosa vuoi? che è, no, statemi per favore attenti perché queste droghe, uno, a parte che non sono puliti e chissà dove sono stati fatti e come, non ti fanno subito sentire male, questo ti porta a dire, ah dammi un'altra e dammi un'altra, però dopo, e questa è la differenza delle altre droghe che conosciamo, no, cocaina, che dopo arrivi a una certa soglia, dopo 3-4 ore, e la, in 3-4 minuti, la tua salute va veramente verso la morte, perché i cambiamenti che queste droghe, diciamo, lieve lo chiamano, no, sono così acute che uno non si può neanche immaginare, tante volte, solo per dire la parola Ecstasy, no, arriviamo, i giovani hanno una temperatura di 41,2, scottano, incredibile, perché semplicemente questi, il maggior parte di queste droghe cambiano nel centro della termoregolazione nel cervello e non sentono più né freddo né caldo, allora il corpo dice, Dio, ho freddo, devo riscaldarmi, ma è già 39 gradi fuori e dentro il corpo, sono cose che possono causare veramente la morte, come stiamo adesso sentendo ultimamente, di questi giovani che sottovalutano queste cose, attenzione, please. Lei tiene anche degli incontri con i giovani, parla oltre di questo, immagino anche di altri argomenti, quali sono? Sì, soprattutto, soprattutto incidenti stradali, questo rimane, come ho detto prima, la cosa per me personalmente, anche forse è legata molto, molto, molto al mio lavoro, ripeto, non c'è una cosa peggiore di guardare una mamma o un papà, e ripeto sempre, una moglie o un figlio, guardare negli occhi e dirli, mi dispiace, ma il suo figlio non c'è più, non c'è una cosa peggiore. Per quello, questi sono gli incontri qui, io e il dottor Vivian, vogliamo veramente con tutta la nostra forza continuare per arrivare a tutti che guidano. Siamo ora alla pagina dell'Alta Padovana. La conferenza dei sindaci dell'Ulss 15 ha rinnovato la convenzione con il Parco Zofilo San Francesco di Piazzola sul Brenta, una struttura che da una dozzina d'anni trova una casa ai cani abbandonati. Abbiamo fatto un incontro proprio qui in Canile con l'esecutivo della conferenza che presiedo, abbiamo dato il via libera a portare in conferenza per i prossimi 4 anni il rinnovo della convenzione, 0,60 centesimi ad abitante, per mantenere questa importante struttura che ha un risvolto non solo di natura ambientale, di sostegno alle nostre comunità, ma anche sociale per tutta l'attività che chi gestisce il Canile fa durante l'anno. Io ho un sogno, io vorrei, non dico, non so, fra 10-20 anni che non ci sia più bisogno dei canili, perché devono, hanno avuto una loro funzione, questo canile per esempio è un ottimo trampolino di lancio perché la stragrande maggioranza dei cani che arrivano qui, l'85% nell'arco di 8-9 mesi, dico io scherzando una gravidanza, trova un nuovo padrone. Quanti cani sono stati dati in affidamento per così dire in questo periodo di attività? Nei primi 10 anni noi possiamo già vantare l'attivo qualcosa come 4.000 cani, lei immagini dove sarebbero questi 4.000 cani se non fossero arrivati qui. Quanti cani ci sono qui o quanti cani transitano nel corso di un anno? In un anno circa vengono accolti e transitano, vengono gestiti praticamente intorno ai 400 cani, cioè proprio gestiti le cose, dopo che restino, che si stanziano proprio nel canile sono sempre di media sempre 200. dottore, ma nel vostro settore voi utilizzate animali? Sì, certo, certo, certo. Diciamo che non direttamente nell'ambulanza, non siamo ancora là per averlo là, però grazie a Dio tramite la protezione civile abbiamo i cinofili, abbiamo anche la protezione civile a cavallo che ci aiutano sicuramente, soprattutto search and rescue quando dobbiamo cercare e dopo con tantissime piccole cose dove gli animali sono veramente utilissimi, per quello io quando sento questo servizio come là dico Dio vi benedica veramente per quello che fate per gli animali, grazie mille, veramente grazie, per quello yes, abbiamo bisogno di loro, yes. Siamo ora allo sport, Giuseppe Seroni, un autentico mito del ciclismo italiano a cavallo tra gli anni 70 e 80, è tornato a Bassano, un'occasione anche per ricordare le gare disputate qui, lo abbiamo intervistato per voi. Ha qualche ricordo particolare legato a questo territorio, della sua carriera? Beh, legato a questo territorio sicuramente, intanto le fatiche fatte nelle salite qui attorno, questo sicuramente, ma non solo questo, anche bei ricordi con tutti questi, chiamiamoli ragazzi, abbiamo sofferto, abbiamo gioito con Fraccaro, poi soprattutto quando è stato con noi squadra c'era da divertirsi e direi che abbiamo vinto anche tanto, quindi insomma ci siamo divertiti, abbiamo sofferto, però con soddisfazione. Come è cambiato il ciclismo in questi ultimi anni, le piace ancora? Il ciclismo come tutte le cose è cambiato, è cambiato molto, è chiaro che noi siamo legati al nostro tipo di ciclismo, però io capisco anche questo cambiamento, vivo il ciclismo di oggi, capisco anche questo, per tanti appassionati, per tanti tifosi non è facile capire il ciclismo oggi, però devo dire che anche nel ciclismo di oggi alla base c'è sempre la sofferenza, la passione, la fatica e quindi insomma i principi ci sono sempre. Dottore, allora qui parliamo di sport, comunque anche voi dovrete mantenervi in forma, giusto? Sì, 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 il ciclismo è un bel inizio diciamo, il ciclismo è un bel inizio, ho tanti colleghi che proprio vanno, anche fanno proprio questo sport, dico sempre sì, anche noi dobbiamo sicuramente fare, non è che c'è un sport particolare, sì, per i colleghi, soprattutto quelli che vanno in montagna, certo là c'è lo sport di essere in forma, l'arrampicamento, tutte queste cose, ma per il resto io penso qualsiasi sport che ci dà quella riserva di energia fa bene. E' anche... Fate il casco sulla bici per favore, dimita. Ma è anche l'abilità insomma di riuscire a correre. Sì, assolutamente sì. Grazie mille dottore per essere stato qui con noi e per averci dato tutte queste importanti indicazioni. Grazie. E invece ringrazio anche voi telespettatori per essere stati con noi e vi auguro ancora un buon ferragosto. Arrivederci. Grazie a tutti.